Grazie. Bene, la seconda? Prego. Se parlo da roma, per il Montecarlo, le elezioni sono stati, almeno così, che sta sopra dei indicativi punti di intesa con i sindacati, però almeno a sentire la TCL questo non è avvenuto e il segretario Camusso ha espresso, ha ribadito il giudizio negativo sulle politiche del governo in materia di lavoro. Che ci sia qualcuno che possa avere opinioni negative è un bene, è la dimostrazione che c'è a democrazia rispetto per le opinioni altrui. Trovo che ci siano molti fatti importanti nelle manovre di questi primi sette mesi. Per la prima volta un grande investimento sulla riduzione delle tasse per il ceto medio, operazione degli 80 euro. Per la prima volta un aumento di denaro sugli ammortizzatori sociali. La disponibilità, vedremo se ci saranno le condizioni o no, per una normativa sulla democrazia sindacale, la legge sulla rappresentanza, la contrattazione decentrata, il salario minimo. C'è un intervento organico, credo davvero significativo, per cui io sono particolarmente soddisfatto di aver presentato quelle che sono le nostre proposte. Siamo assolutamente liberi e disponibili alle opinioni di chiunque. L'importante è che si vada avanti. Noi ascoltiamo chiunque, miglioriamo se dobbiamo migliorare, impariamo cose importanti se qualcuno ce le ha da presentare e contemporaneamente però ribadiamo il messaggio che questo è un Paese che deve cambiare, che ha bisogno di entrare in modo molto forte nel futuro e per questo non ci faremo bloccare dai veti o dalle opinioni negative. Disponibili al dialogo fino all'ultimo momento, rispettosi delle manifestazioni di protesta, però anche molto desiderosi di andare avanti e di continuare a lavorare per un processo di cambiamento che secondo me è straordinario. È straordinario, l'abbiamo verificato oggi con organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, Forze dell'Ordine. Insomma, la Sala Verde oggi ha lavorato a pieno regime. Perché ha? È stata molto criticata la scelta di vedere oggi i sindacati, probabilmente in cui ci sarà la fiducia. Perché proprio questo momento? Se non li vediamo non va bene, se li vediamo non va bene. Non so da chi è stata criticata. Mi sembra che fosse stata richiesta la possibilità di un dialogo con i sindacati. L'abbiamo dato, abbiamo presentato in guida della stabilità. Li rivedremo, li rivedranno i ministri alla fine del mese. Francamente non ho visto un clima di rabbia perché si è deciso di porre la questione di fiducia. La questione di fiducia è ovviamente una discussione che attiene ai lavori parlamentari. Se la maggioranza ha voglia di andare avanti vota la fiducia, se non ha voglia di andare avanti non vota la fiducia. Ma è chiaro che, avendo noi promesso di fare le riforme, noi le riforme le dobbiamo fare, le vogliamo fare e le stiamo facendo. Questa riforma, per essere chiari, ha grandi novità. Mette più soldi sugli ammortizzatori sociali. Quindi si fa carico, si prende cura del lavoratore disoccupato, anziché lasciarlo andare per i fatti suoi come è accaduto purtroppo spesso in passato. Semplifica le norme, ci sono 2.000 norme, portiamo a 50-60 articoli il codice semplificato del lavoro. Permette, non è stata segnalata, ma un piccolo gesto di rispetto. Quando si entra in un'azienda si va tutti insieme, non si va con dozzine di controlli per cui un giorno entra l'aslo, un giorno entra la finanza, un giorno l'agenzia delle entrate, cioè tutti divisi e diversificati. I controlli, quando sono, sono coordinati. Permette di parlare di maternità non soltanto per chi ha un lavoro a tempo indeterminato o comunque ha delle tutele maggiori. Permette di ragionare e riflettere sul superamento della precarietà e contemporaneamente dà flessibilità agli imprenditori, consentendo di voler investire, perché il problema vero che sta dietro l'articolo 18 qual è? È che spesso le imprese non sanno, in particolar modo le imprese straniere, qual è l'eventuale costo di una possibile o potenziale dismissione. Allora per questo decidono magari di andare a investire da un'altra parte. Questo è il motivo vero per cui noi diamo certezza e solidità al sistema. Per dare le garanzie invece a chi viene disoccupato, a chi viene mandato a casa, bisogna creare un modello di formazione diverso e anche un modello di assegno diverso. Tu sei licenziato? Bene, io ti difendo, ti do un tot. Chi ti licenzia ti deve pagare un indennizzo. Contemporaneamente io ti do un assegno per i primi mesi e ti chiedo di frequentare dei corsi di formazione. Poi ti faccio delle proposte di lavoro con l'Agenzia Nazionale. La prima mi dici di no, te la lascio passare. Alla seconda però o mi prendi la proposta di lavoro oppure esci dal programma. Sinceramente con tutto il rispetto mi sembrano proposte di buon senso. Per questo trovo che sia interessante la discussione che si è aperta con i sindacati, con i datori di lavoro. Molti di loro hanno dubbi, gli imprenditori non vogliono il TFR in busta paga perché hanno preoccupazioni corrette e comprensibili per le piccole e medie imprese. Noi abbiamo detto che lo faremo se queste piccole e medie imprese saranno garantite da sistemi bancari, sistemi di garanzia o comunque di credito agevolato. C'è una preoccupazione forte di una parte del sindacato rispetto al tema della rappresentanza sindacale, ma le cose le avete sentite. Mi pare che sia stata una discussione, si sarebbe detto una volta dopo un'ampia e approfondita discussione. Quindi sono molto soddisfatto della discussione che c'è stata. Se non ci sono altre domande, l'ultima. Prego. Sera Romano, virus tra i due. Trovo interessante anche la discussione che si è aperta all'interno del PD? Domani ha paura dei franchi tiratori per un'eventuale fiducia al Senato? La fiducia è a voto palese, per cui non si tratta di franchi tiratori. Noi abbiamo, credo, fatto un lavoro molto serio con il Partito Democratico. Ci abbiamo discusso, ci siamo parlati, abbiamo anche modificato la linea iniziale per ascoltare alcune delle critiche che venivano da una parte della minoranza. Io credo che in un Partito Democratico a un certo punto poi si deve decidere e votare. Si è votato all'interno della direzione del PD, si voterà domani alla fiducia. Io sono convinto che sia naturale che tutte le senatrici e i senatori del Partito Democratico votino la fiducia come è sempre accaduto, per cui non temo agguati. Ombici fossero, li affronteremmo. L'ultima, davvero, le ultime due. La Marra e lei e poi si va via. Presidente, buongiorno. Lorenzo Totoro, Bloomberg News. Che cosa dirà domani ai suoi colleghi europei sullo stato d'avanzamento delle riforme in Italia, compresa questa del mercato lavoro, visto che si tratta di un summit su temi del lavoro e, se possibile, fuori tema, se ha letto e tratto alcuna considerazione dall'articolo dell'economista Zingales sulle 24 ore di domenica rispetto ai rischi che l'Italia sta correndo in questa fase? Marra e poi rispondo a tutti. Vado via. Va bene, Filippo? Sì. Vai. C'è un'ultima... Dai, rapidi però, facciamo velocissime le ultime tre domande di tre donne e poi si va via. E' andata così. Io volevo sapere soltanto quanto saranno estesi i disciplinari, cioè la possibilità di reintegro. C'era lì accanto? Vai. Invece con i rappresentanti delle forze dell'ordine i toni sono tornati a regime, tutto risolto? Bene. L'ultima. E in questi giorni lei è stato paragonato a Lady Thatcher, sempre in un'accezione negativa. Al di là del fatto che lei è un mister, secondo lei l'Italia ha bisogno di un metodo Thatcher? Cerco di andare in ordine? Ovviamente no. Con tutto rispetto per Margaret Thatcher e per la straordinaria leadership che ha esercitato negli anni Ottanta in Regno Unito, c'è una evidente distorsione al passato, torsione e distorsione al passato, quando si immaginano dei modelli così lontani. Per di più se c'è una persona dalla quale io mi sento culturalmente molto lontano, con tutto il rispetto e naturalmente la stima che si deve a un grande personaggio della storia britannica, è proprio con lei la quale diceva quella cosa chiamata società non esiste. Io credo molto più, se vogliamo restare nel campo dei conservatori inglesi, al tema della big society, che non a quella cosa chiamata società non esiste. Non pretendo però di aprire un dibattito sul tacerismo, io sono spesso accusato di essere molto tranchant e superficiale nei miei commenti, lo sarò anche adesso, le chiedo scusa per questa sintesi brutale, ma non ho idea di quanto mi piacerebbe una discussione filosofica su cosa sono stati gli anni Ottanta, su come le politiche economiche di quel periodo hanno segnato una stagione del pensiero politico molto rilevante. Naturalmente, se devo indicare un modello internazionale, penso alla terza via di Bill Clinton, di Tony Blair, o se restando ad oggi sulla politica economica, la capacità di creare una sfida democratica e di sinistra, si sarebbe detto in Italia, come quella che sta tentando di fare, che ormai sta facendo Barack Obama negli Stati Uniti, anche producendo dei risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti positivi e significativi. Forza dell'ordine, il clima mi sembra diverso, del resto era stato detto con chiarezza che i comunicati che erano usciti erano comunicati dai quali la stragrande maggioranza delle sigle prendeva le distanze. In soldoni noi rispettiamo e ci inchiniamo di fronte al lavoro delle donne e degli uomini in divisa, non accettiamo ovviamente da nessuno, neanche mai dai tutori della legalità, che si possa mettere in discussione la stessa, perché la legalità è un valore fondamentale e come sapete il cocer non può minacciare uno sciopero che non può realizzare, cioè lo può fare, ma è assolutamente contro la vigente normativa e non vedo buon motivo per cambiare la normativa. Mi pare che il clima sia profondamente diverso e oggi la discussione sia stata positiva. Rispetto al tema del disciplinare c'è una norma molto chiara, un passaggio molto chiaro nella direzione del Partito Democratico che dice con chiarezza che previa qualificazione della fattispecie occorrerà dunque chiarire la fattispecie e sono certo che Vandamarra avrà la pazienza di attendere il decreto legislativo come tutti voi del resto. Cosa? Lei se ha visto il testo non potrebbe neanche immaginare dove potrebbe essere messo, quindi il principio è, lo dirà il Ministro Poletti in aula, è un impegno politico che c'è, ma la disciplina del disciplinare, mi perdonerete il gioco di parole, sarà evidentemente resa puntuale nel decreto legislativo come prevede lo strumento della legge delega che dà degli elementi di indicazione, ai quali poi segue un lavoro fatto dal Governo e vidimato dalle competenti commissioni parlamentari. Rispetto al tema della... Vabbè, il commento a Zingales non credo vi interessi in questa sede, che è puntuale, posso però dire, rispondendo alla domanda di Bloomberg, che il posizionamento col quale arriviamo al vertice europeo è straordinario dal punto di vista di riforme messe in campo. Io capisco il tono, le polemiche, ma in questi sette mesi è accaduto che abbiamo fatto il decreto Poletti sul contratto a tempo determinato e abbiamo impostato il disegno di legge delega che nelle prossime ore andrà al voto al Senato, poi ci sarà da andare alla Camera e poi da scrivere i decreti. Abbiamo sul decreto legge Madia fatto e il disegno di legge in discussione. Riforma costituzionale in attesa, nel senso non aspettata da molti, e oggi è un dato di fatto che è in discussione alla Camera dopo aver già ottenuto il primo sì del Senato. Ha ottenuto il primo sì della Camera e in attesa del sì del Senato la legge elettorale che era stata bloccata per anni, che ha visto i parlamentari fare lo sciopro della fame. Un anno fa, a quest'ora, un parlamentare iniziava lo sciopro della fame. Perché deve essere chiaro. Erano i giorni di ottobre. Se noi potessimo rimettere le lancette indietro di un anno fa, io non ero neanche candidato ancora formalmente, mi sono candidato proprio in questi giorni a Bari. Se noi potessimo rimettere le lancette indietro di un anno, vediamo come la legge elettorale sia ritornata oggetto di discussione politica e oggi addirittura atto parlamentare è approvato in prima lettura. C'è il tema della giustizia civile che è prioritario per creare sviluppo, per creare crescita, perché dà garanzia degli investimenti. C'è il tema di misure come quelle del decreto competitività e dello sblocco a Italia che sono, a mio giudizio, ampiamente sottovalutate nel dibattito pubblico. Vorrei così, en passant, sottolineare la legge Sabatini, il rifinanziamento della Sabatini. Chi di voi volesse fare un'inchiesta sui numeri del rifinanziamento della Sabatini? Cioè ci sono degli strumenti di iniziativa che il Governo ha preso che stanno producendo, a mio giudizio, dei risultati. C'è la madre di tutte le questioni che è quella scolastica ed educativa. Abbiamo superato quasi 30.000 questionari, eravamo a 23.000 due giorni fa. C'è un grandissimo dibattito e discussione sui temi della scuola, molto importante e molto significativa. Stiamo correndo, stiamo correndo, cercando naturalmente di non affastellare le tante cose che sono presenti nel dibattito, ma ci presentiamo alla discussione con i nostri partner europei, con un programma di riforme strutturali che è il più ambizioso che l'Italia abbia mai avuto, ma permettetemi di dire che è uno dei più ambiziosi come tempi tecnici di realizzazione mai realizzato in un Paese europeo. Cioè la velocità e la complessità della proposta che noi stiamo facendo, che poi magari per qualcuno di voi potrà essere profondamente negativa, decisamente discutibile, è del tutto legittimo che non tutti siate d'accordo o che non tutti i cittadini siano d'accordo, ma l'intensità del percorso riformatore, altro che slogan, sono atti parlamentari di rara intensità. Naturalmente immagino che lei volesse domandare qual è la nostra opinione rispetto alle strategie che l'Eurozona deve attuare per favorire la lotta contro la disoccupazione. Per me non possono che essere strategie a 360 gradi. Cioè occupazione in Italia non la crei con l'articolo 18, io sono il primo a dirlo. Non la crei con gli ammortizzatori sociali nuovi, sono il primo a dirlo. Non la crei con la riforma della giustizia civile, sono il primo a dirlo. Non la crei con la lotta anticorruzione, sono il primo a dirlo. Però tutte queste cose messe insieme danno, dicono quelli bravi, un business context che consenta di tornare agli investimenti. molto importante ed è quello che noi vogliamo attuare nelle prossime ore. Business context che consenta di attrarre investimenti, creare posti di lavoro, agevolare per quanto possibile il lavoro a tempo indeterminato rispetto al resto. Abbiamo più 83 mila posti di lavoro negli ultimi sei mesi. Ovviamente, avendone perso un milione negli ultimi cinque anni, la ripartenza non è così semplice. Per arrivare a recuperare un milione di posti di lavoro c'è moltissimo da fare e molto da investire. Però la determinazione con la quale noi stiamo lavorando, una determinazione a 360 gradi, penso, spero e credo che anche l'Europa farà la propria parte e del resto l'Europa siamo noi. Quando abbiamo, tra virgolette, convinto, mai mi permetterai di dire, costretto, Juncker, a fare la proposta di 300 miliardi di euro sugli investimenti, dicendo o così o noi non votiamo la candidatura Juncker, e questo è accaduto, abbiamo fatto un'operazione politica e mi piacerebbe anche che, e davvero su questo chiudo, tutti gli strumenti di finance for growth, di finanza per la crescita che il Ministro Paduan ha indicato all'Europa e che in parte saranno recuperati anche all'interno del semestre europeo, diventassero maggiori elementi di discussione perché sono elementi che aiutano la crescita e quindi l'occupazione. Non c'è crescita se non c'è occupazione, non c'è occupazione se non torna alla crescita. I due elementi sono molto legati, vediamo se domani riusciremo a individuare un ulteriore passo in avanti da fare come Unione Europea. Vi ringrazio di cuore, vi ringrazio anche per aver vissuto questo lungo elenco di conferenze stampa e vi auguro buon lavoro. Buona giornata. Che è successo?